Il ciclo idrico rappresenta per noi una realtà significativa, ancorché limitata geograficamente alla provincia di Brescia, che è uno dei territori chiave dove agisce la nostra azienda. 68 comuni serviti, un fatturato 2023 superiore ai 100 milioni, 89 milioni di investimenti, una realtà di grande potenzialità. Noi vogliamo lavorare molto sulla parte industriale dell'acqua, quindi soprattutto depurazione, recupero reti. Sulla depurazione abbiamo una grossa pianificazione, proprio per cercare di recuperare il concetto di riuso e di utilizzo dell'acqua dopo la prima fruizione, quindi sostanzialmente con finalità agricole, di alimentazione non potabile da dove necessaria e di mantenimento della capacità idrica del territorio. Questo è per noi decisamente rilevante. Il modello di business nel quale crediamo è quello di una partecipazione al pubblico privato, quindi con un panel industriale, come potremmo essere noi, una regia pubblica di una società più di servizi, proprio per condividere investimenti, ridurre anche le perdite, ridurre il device anche geografico che in Italia c'è, perché non tutti i comuni sono serviti nello stesso modo a parità di territori, e naturalmente avere anche una forte attenzione a tutto quanto può essere, una valorizzazione del ciclo, data la piovosità, in termini di recupero e di mantenimento della falda. Grazie a tutti.